Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi continuerò la rubrica per imparare a come giocare l'apertura spagnola e in partita vi porterò una partita giocata nel campionato mondiale Rapid del 2001 tra il grandissimo Gary Kasparov contro il GM Greyshuk. Allora, cominciamo subito. Giusto se non l'hai già fatto, ti chiedo di iscrivervi al canale YouTube cliccando qui sotto e attivare la campanella per non perderti i prossimi video. E4-3-5 con l'F3-4-6, Alfie B5. Questa è l'apertura spagnola, l'apertura già commentata. Più volte sia nella playlist ma anche nel video per traspendere in 10 minuti che ti lascio qui sopra così se non l'hai visto hai l'opportunità di vedere i principali piani di questa apertura e poi continuare con gli approfondimenti della playlist. A6-4 è la variante principale, cavallo F6, arrocco, Alfie N7, torre N1, B5. Qui vado veloce appunto perché apertura già commentata. L'alfiere B3, D6. Attenzione qui perché D6 difende il pedone E5 e quindi ora il cavallo si può muovere perché il pedone E5 diventa difeso. Si può muovere e sta minacciando cavallo A5. Perché è una minaccia? Perché noi non vogliamo, quindi da bianco, non vogliamo assolutamente perdere l'alfiere Campochiaro. Se no perderemo la coppia di alfieri. È un ottimo alfiere che può creare fastidio allo schieramento nemico. Sia in quella diagonale A2-G8 ma anche nella diagonale B1-H7. In futuro vedremo nella spagnola che possono esserci diversi attacchi. Quindi la mossa giusta è C3. Ecco perché C3 bisogna giocarla subito dopo D6 e non ritardarla. Per esempio H3 qui è sbagliata perché il nero farebbe subito con la 5 e si cattura l'alfiere. Quindi C3 a rocco. Ora H3 va bene per evitare un eventuale alfiere G4 che può dare fastidio. Con la 5 alfiere C2. L'alfiere si può ritirare proprio grazie alla casa di fuga data dalla mossa C3. C5. C5 è una mossa interessante in questa variante chiusa per controllare sempre di più la casa D4. Però il bianco può comunque spingere il pioniere D4 ed è proprio la mossa corretta. Quindi il bianco ottiene un po' il suo obiettivo che poi è l'obiettivo principale dell'apertura spagnola. Quello di conquistare il centro con entrambi pedoni E4 ed D4. Alfiere B7. D5. Si chiude questo centro. Si chiude subito. E questa è una scelta molto interessante da parte di Kasparov. Infatti vedremo che in questa partita il gioco di Kasparov è veramente ben studiato, ben strutturato. Qual è la sua idea? Che ora vedremo tra poche mosse. La sua idea è chiudere il lato di donna. Quindi non permettere all'avversario di attaccare o contraattaccare il lato di donna. E poi attaccare il lato di re. Questo è molto interessante. Vediamolo subito. Con le prossime mosse. Cavallo in C4, A4. Quindi vedete come sta giocando in questo momento il lato di donna Kasparov. Cavallo in B6, B3. Una mossa probabilmente sì per difendere il peone A4. Anche, ok, libera anche le case B2 e C1. Ma il principale motivo è proprio la difesa del peone A4. Alfiere C8. Donne E2. Donne E2 invece è una bella, bella mossa. Perché? Perché il bianco con questa mossa riesce a raggiungere diversi obiettivi. Fa diverse cose. Allora, innanzitutto attacca il peone B5. Quindi il pedone B5 è attaccato dal pedone e dalla regina. Due attaccanti contro solamente un difensore. Quindi già mette un po' minaccia un pedone. Quindi il nero deve trovare una difesa al peone B5. Inoltre, non sviluppando subito il cavallo in B2. Perché anche questa mossa comunque era fattibile. D'altronde è un normale sviluppo di pezzo. Ma non sviluppandolo subito. Permette a questo cavallo la libertà di scegliere in futuro se svilupparsi in D2 o in C3. Su cavallo B2, che è comunque una variante fattibile. Per esempio il nero potrebbe rispondere con G6. Perciò vedere questa linea che è interessante. Cavallo F1, perone per, perone per, a5, cavallo E3, alfi e a6. E comunque un po' di controgioco il nero ce l'ha. Qui il lato di donna non è affatto chiuso. Quindi è chiaro che il bianco cercherà di creare un attacco nel lato di re. Ma il nero con cavallo in C4, torre B8, donna B6, può controattaccare un attacco di donna. Quindi qui la partita è assolutamente bilanciata. Invece dopo donna E2, alfi e D7, C4. Bellissima qui C4. Proprio per liberare la casa C3 nell'eventualità in cui il nero non dovesse giocare B4. Quindi se il nero qui per esempio cattura in C4, la partita non è andata così. Ma se avesse catturato in C4, dopo B4, C4, A5, cavallo C3, qui il bianco sta benissimo. Per esempio, cavalline 8, con l'idea magari di spostare il cavallo e portarlo nella casa migliore, C7 e A6, arriva il cavallo B5 e il nero non può giocare il cavallo A6 perché il A5 è debole. Quindi verrebbe catturato. Quindi vedete che qui il valutato posizionale del bianco è notevole. Quindi questa è l'idea di donne 2 prima di cavallo di 2. Sono piccolezze, ma stiamo parlando di giocatori che hanno 2800 di elo, quindi questi piccoli dettagli fanno la differenza. Probabilmente al nostro livello no, però capire questi concetti sicuramente ci aiuterà anche a trovare le mosse migliori contro giocatori del nostro livello. Qui, per esempio, alfiere 3 non è considerata la migliore perché permette la cattura B per A4, B per A4, donne 8, cominciando a creare una batteria contro il prima A4 che è già tirato anche dal cavallo, A5, alfiere B5 attacca la regina, e guardate qui che è contro gioco? Cambio degli alfieri, donne in B5, donna C2 e cavallo C4. Direi che è chiaro e palese che il nero qui ha un bel contro gioco, anzi, direi anche che in questo momento è il nero a avere l'iniziativa perché il bianco non è ancora riuscito a creare un attacco nel lato di re. Quindi alfiere 3 qui non va ed è corretta assolutamente la mossa C4 di Kasparov. Grishuk chiude, chiude il lato di donna con B4 e qui Kasparov è contento. Perché? Perché ha raggiunto il suo primo obiettivo in apertura, quello proprio di chiudere il lato di donna, però vedremo come in un attimo sposta tutti i pezzi in lato di re e comincia a creare un forte attacco. Cavalli in D2, G6, cavalli in F1, cavalli in H5, G4. È giunta l'ora di attaccare. Tutti i pezzi sono coordinate, sono posizionati bene. Ebbene, l'alfi C1, voi direte, non è ancora sviluppato, però l'alfi C1 sta controllando tutta questa diagonale. e in un attimo, in futuro, potrebbe anche andare in H6 volendo. In questo caso non ci va perché qui il nero gioca qua all'F4, ma per esempio su cavalli in G7, l'alfi H6 è una mossa assolutamente corretta, perché no? Vi faccio notare un bel attaticismo. Qui il nero non può giocare F5, che potrebbe sembrare la mossa di liberazione per il nero, la spinta di rottura che gli permette di aprire la colonna F e quindi magari creare un attacco. Guardate qui, pelone per, pelone per, G per F5, alfie per F5, e qui vi è la mossa vincente. Se vi va, anche per allenarvi, mettete pausa al video e cercate qua la mossa vincente per il bianco. È sicuramente questo un buon allenamento. Qui il bianco può giocare cavallo per E5, è un bel sacrificio. Su pelone per, prima alfie per G7, re per G7, donna per E5, scacco a re e si attacco all'alfiere. Quindi attacco il doppio. Ovviamente non funziona alfiere in F6 per donna per F5, poi attenzione, si miaccia anche matto. Quindi qui, partita vinta. Grishuk la sallunga e gioca con l'F4. Alfiere per F4, pelone per, notiamo che quest'alfiere non si è mai mosso e viene cambiato per un cavallo che è stato mosso tre volte. Quindi questa è un'ottima strategia per far perdere tempi all'avversario e noi scambiamo un pezzo che non abbiamo mai mosso. Donna D2 attacca il pedone, alfiere F6, attacca la torre. Qui ovviamente la diagonale a 1H8 diventa una diagonale forte per il nero a causa della mancanza dell'alfiere camposcuro e del bianco, quindi è corretto che Grishuk occupa questa diagonale. ma è altrettanto corretto da parte di Kasparov contrastarla. E5, spinta di rottura per bloccare la diagonale e piazzare anche un cavallo al centro della secchiera. Guarda qui come sta arrivando l'attacco per il nero, per il bianco scusate. Qui infatti il nero gioca al F5 che è il primo vero errore da parte di Grishuk. La mossa corretta sarebbe stata Alfie per i5. Perché? Perché avrebbe potuto dare un notevole controgioco al gioco del nero. Per esempio, torre per i5, qui la bellissima donna H4 mette un po' in crisi il bianco. Si attacca il primo H3 e non si può difendere con il re. Perché? Perché sul re H2, Alfieva G4. Il primo H3 ovviamente è inchiodato. Sul re in G2, cosa segue? F3 scacco a re. E qui sono problemi per il bianco. Se re per F3 ovviamente la cattua con scacco e qui il bianco perde. Quindi unica mossa è donna per F4. Anche se è chiaro che qui il controgioco da parte del nero c'è. C'è comunque la regina che attacca il pedone bianco. Insomma, F5 con l'idea di aprire la con F. Quindi secondo me qua Krischuk se la poteva giocare. Invece dopo Alfieva G5 arriviamo alla conclusione della partita. Kasparov non perdona. Cavallo H2, A5, cavallo F3. Vedete come questo cavallo è partito da B1 e per arrivare addirittura in F3 e poi attaccare. Alfieva H6. Torre in D1. Ammiriamo qui i pezzi del bianco come sono coordinati benissimo mentre al contrario i pezzi del nero non stanno offrendo che anche questa torre in A8 non gioca. Questo cavallo in B6 si sta chiedendo qual è il suo scopo, il suo ruolo. Quindi la posizione del bianco è veramente fantastica. Donna F6, H4. Si attaccava con i pedoni. Donna D6, cavallo in G5. Arriva anche la cavalleria. Torre in E8, cavallo per D7, cavallo per D7, cavallo in E4. Si sposta il cavallo in una casa centrale, attacca la regina, attacca la casa debole F6. Donna B8, G5. Per attaccare Alfieva e cominciare a controllare la casa debole F6. Alfieva G7, D6. Per liberare la casa D5, bloccare il gioco della regina. E infatti dopo Alfieva in E5, e inoltre, attenzione, blocca gioco alla regina. E quindi qui il bianco sta minacciando Donna per F4, un pedone secco, ma anche Donna D5. E infatti dopo Alfieva D5 segue Donna D5. Guardate qui come ormai ogni mossa vi sono diverse minacce. Donna D5 sta minacciando il pedone C5. Attacca anche Alfieva che ovviamente attualmente è difeso. Inchioda il pedone F7. E questo in futuro potrebbe tornare utile per un eventuale attacco con il pedone H5 e poi presa in G6. Donna B6, H5 infatti. Torre in E6. H per G6, H per G6. Cavallo F6 scacco. E attenzione qui, il nero non può catturare di cavallo perché? Perché segue G per F6, Alfie per, Torre per, Peone per, Donna per, scacco a Re. E su Re in G7 la bella Donna in E4 con attacco vincente grazie alla batteria Alfie e Regina contro il pedone G6. Quindi non funziona la presa di cavallo e quindi qui il nero decide di prendere di Torre. Sacrifica la Torre per cercare di sopravvivere ma ormai l'attacco è veramente formidabile. Prende di pedone ma attenzione perché cosa notiamo? Che la Regina sta inchiodando il Peone F7 e quindi ora l'Alfiere è libero di catturare il Peone in G6. E qui secondo me già la pubblicità è da abbandono. Grishu ha continuato poche mossi e vi faccio vedere velocemente perché la partita ormai è finita. Serie di scacchi e poi Torre di 3 con matto imparabile. Una partita secondo me bellissima e super istruttiva sia per chi gioca all'apertura spagnola ma a prescindere per imparare il concetto di cercare di bloccare l'attacco dell'avversario quindi in un lato, in un lato di Donna e poi attaccare in un lato di Re. Questa è una strategia vincente che abbiamo visto in questa partita e che sicuramente possiamo anche noi proporre nelle nostre partite. Se vi va fatemi sapere nei commenti che ne pensate se vi è capitato anche nelle vostre partite di attuare una strategia simile se la utilizzate in futuro insomma ditemi tutto nei commenti. E se vi piace che porto anche altre partite di Casparo o di altri sull'apertura spagnola. Lasciate un like se vi è piaciuto il video e vi lascio qui dei video in sua impressione. Ci vediamo alla prossima. Ciao!